Sulle azioni della Banca Popolare di Bari scendono in campo anche le associazioni dei consumatori, che difendono i correntisti e gli azionisti della più grande banca del sud Italia. Le novità emerse dall'inchiesta aperta dalla Procura di Bari hanno spinto i legali a chiedere un risarcimento del danno di quegli azionisti secondo i quali non sarebbe stato rispettato l'ordine cronologico di vendita delle azioni. Le perquisizioni da parte delle fiamme gialle nella sede direzionale della banca coinvolgono anche grossi imprenditori baresi che, secondo l'accusa, si sarebbero tempestivamente liberati di 430.000 azioni a poche ore prima della svalutazione del titolo del 20%. L'operazione sarebbe avvenuta ignorando l'ordine cronologico di vendita di quei risparmiatori che da mesi attendono il loro turno. Gli imprenditori smentiscono, ma il presidente dell'Associazione Avvocati dei Consumatori, Romito, insiste, chiedendo ancora una volta la pubblicazione del documento in cui era riportato l'ordine cronologico degli azionisti che intendevano vendere. Sulla stessa strada si muove il Comitato per la tutela degli azionisti della Banca Popolare di Bari, nato due mesi fa tra cinque associazioni, e che ha chiesto alla Banca di costituire un fondo di solidarietà per gli azionisti in difficoltà e di dotarsi di un mercato secondario regolamentato che garantisca più facilità nella vendita delle azioni.